Domani 10 ottobre la giornata nazionale per la lotta dell'obesità che fa tappa anche a Praia Mare presso l'ambulatorio di nutrizione e dietologia del presidio sanitario della città dell'isola Adino. Ne parliamo con il dottor Carmelo Di Perna che seguirà le prenotazioni e le giornate mediche. Sì, domani è la giornata per la lotta all'obesità. È una giornata che su tutto il territorio nazionale vedrà focalizzato l'intervento di medici e dietisti nella prevenzione all'obesità. L'obesità è una patologia vera e propria che ha costi a livello sociale, che può avere costi a livello umano e quindi è sicuramente corretto fare la prevenzione. La prevenzione che faremo nella giornata di domani qui a Praia sarà una prevenzione del tutto gratuita. Non ci sarà bisogno di effettuare alcuna prenotazione. Tutta l'utenza, quindi chiunque è interessato potrà presentarsi domattina dalle ore 8 alle ore 13 al primo piano dell'attuale CAPT di Praia a Mare e verrà svolta una valutazione nutrizionale, verranno date dei suggerimenti e delle indicazioni su come eventualmente affrontare una condizione di sovrappeso o di obesità. Quindi poi l'utente o il paziente verrà indirizzato alla competente struttura, quindi al nostro ambulatorio di nutrizione e dietologia. Cosa c'è dietro l'obesità? Non sempre questioni legate al tema dell'alimentazione. Obesità che può insorgere negli ambienti poi di lavoro, della famiglia, della scuola. Ma come ha precisato lei è importante fare prevenzione. È sicuramente una corretta riflessione quella che hai fatto perché molte volte un disagio psicologico o delle condizioni sociali più o meno estreme possono determinare l'insorgenza di questa patologia. Quindi nella prevenzione va anche capito, va anche colto. Se oltre ad uno stato fisico non proprio ottimale c'è anche un disagio psichico da correggere, sul quale intervenire.